eeeh ma staneco buongiorno 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 sei pronti? ah si si ecco qua i metti da così non ne hai potuto fare ecco qua ora ragazzi eeeh ma staneco le te le sussi da e poi faccio il bra guardate guardate vorrei fare io con le anima quello che fate voi con le scarpe eeeh taglio lo spazio peccato farlo di nuovo ed io se lo sa quanto c'è bisogno quanto c'erano tutti che siano anche i calcolari dell'anima eeeh non vanno anche i decenni voi siete musanti ma vanno qui o no e ministri c'erano non mi intuasci in tentazione io solo sa quanta fragilità e ognuno di noi ripeto come varie sono voli metteroi peccatori eh non va siete pure in questo paese stiamo capace siamo capace e ma vuoi sapete a voi vuoi sentire basta nel comune quando mi devete dare per questo capolavoro eh eh non va il tuo lavoro sapete ne dappoi da casa oi, io sono no, quello non va a usare qui è, qui è quello non va a usare qui è un lavoro, mi deve dire che è una messa su e che ha detto fa volare questo sempre e per tutti non va ma lo ha da un'angosità andò ci ha la necessità ecco, non è da runa quello non manca di capo il conto di quella manetta e andò ci va andò ci va e ma strego cerco di seguire le vie di nostro signore cerco di stare gli piedi non riprende sempre strada io e il signore salì gli indicano un signore anche dopo che salgo qui da questa manetta eh 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 dom eh eh ma veste ma vabbè che a me vanno un poco l'uomo quest'alto non che vabbè volete farlo che c'è se te lo c'è tutto con te no no maria la preferisco apposta un po' lungo ma qui c'è già la lampacare eh già la lampacare sono altre le cadute del luogo eh ma adesso vi spiego il senso della mia talare così lunga che la preferisco apposta così perché quando cammino per l'estate del paese o o tra di casa benedita io stesso questo discredo che la borda la borda del paese che attraversano si attacchi alla mia talare alla mia versa poi una volta una volta in chiesa io la offro al nostro signore come avverete vincere il peccato ma eh non so se mi sono spiegato non sapete per noi sacerdoti l'abito che è il mondo non è vero il mondo che ti sei incontrato no 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 la veste la talare questo è la veste che esprime la nostra appartenenza all'uomo e il giorno in cui la chiesa non obbligare più i preti a indossare la talare bene saranno anche l'inizio del sud ah ah eh eh Don Papa dice una cosa quella che si arruma 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 quando si arruma 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 il male futuro della chiesa sarà la modernità ma non la modernità della scienza della tecnica che metterà in discussione e qui ne abbiamo un esempio e voi sapete chi mi riferisco quell'ex panaticiano quel mangiare quel comunista non è che il comunismo è una dottrina che si illude di creare un mondo di giustizia e di pace senza l'aiuto che ti dici, senza della sua provvidenza mi schiava, eh? non ci so, non ci do, ma non ci do non mi perdono senza di il codice è rubiti senza te rubati è stupendo e oggi più che mai dobbiamo pregare per il padre, per la chiesa, per questa nuova minaccia cosa sta... eh? eh son po', son po', e voi siete stato? ehm? mi raga, mi ha sempre discarci, tu te la preghetti, mi dà qua e io non so, non so, non so, non so quanto penso alle prevedere di nostro signore manderete per me è come una scala dell'usso ma, dai, bene son po', facciate a un nuovo piacere ecco qua ma a condizione che quando vorrei che questa sono tutti buoni come voi beh, allora facciamo così domani trattare bravo se ti fa piacere ma lei si parla però si parla e metti che si parla dalla casa perché sta succedendo con un paese perché? che sta succedendo con un paese? no, niente, non va è da saluto no ok non sapevo se è rosso piccolo ma se è roba di spazio non faccio le cose ah e beh ma la natura sulle cose da donne come sta questa? l'este, sotto l'este che sta succedendo con un paese? uè 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 i due uè uè l'uè uè ma l'uomo il maschio quello che la faccio per pure tutto con la fantasia con l'immaginazione fa il resto io lo sapevo quando lo sapevo in confessione che c'è il tuo padre che avevano tanto di oscurata che non c'erano niente e che è questo il tuo padre? stai andando, andando, vai e lì mi ha dato un sabone che faccio fare la ricetta da volare? un sabone du po' grazie e a dove stai mani? Maria? Maria vuoi? a pieno di sangue? a mangiare un po' topi topi Maria? tante volte se ne mette a spalla soltanto gli indumenti maschili dei vostri Maria dicerle dicerle che tu te l'hai spargietà voi come vai? manda la topina l'osina e il tuo mareciato ma cosa hai tu per un paese? a farci vedere se ti mette una spalla braga e si mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm altra volta voi non ci hanno vedi? eh? si si dopo 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 ah mi giuro dobbiamo pregare perché c'essi immediatamente questo scandalo in paese mi raccomando e lo guardi cosa da me eh? mi raccomando dopo dopo grazie quindi si